Gli svizzeri hanno votato con il governo un po' meno i ticinesi, tra il referendum più uno, quello che non ha conseguenze dirette in concreto e che suscita più polemiche. Il quesito approvato a livello federale è quello sui servizi segreti e vale approvazione di una legge federale dal 2015. In pratica vengono dati più poteri ma imposti anche più controlli e una maggiore trasparenza ai servizi segreti. Il ministro della difesa sottolinea i vantaggi della normativa. Questa nuova legge darà alla Svizzera mezzi moderni per rispondere alle minacce attuali contro la sicurezza del paese. Terrorismo, spionaggio, attacchi a infrastrutture sensibili, traffico di materiale nucleare, biologico o chimico, ha detto. Respinti invece, come proposto dal governo, i quesiti per un aumento delle pensioni e per un'economia verde. Nel canton Ticino invece è solo lì. Si è tenuto un quarto referendum, detto anche prima i nostri, mentre ne è stato respinto un altro contro il dumping salariale, la cui responsabilità viene attribuita in gran parte ai frontalieri. Quello approvato, prima i nostri, non ha in realtà conseguenze dirette se non nella polemica trasfrontaliera. Il testo approvato chiede una modifica della Costituzione elvetica per dare precedenza ai lavoratori ticinesi e difficilmente si arriverà davvero alla riforma.